ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di rilassamento se mi seguite già sapete che questo canale è un canale di relax si chiama ASMR e appunto chi entra qui sa che è un momento per rilassarsi per dimenticarsi un po' i vari problemi e per stare un po' a coccolarci a vicenda e a farci appunto rilassare e magari prendere anche un po' sonno sappiamo tutti quanto sia difficile a volte riuscire a dimenticare le cose che ci preoccupano le cose che ci portano ad avere appunto dei pensieri ma se sei qua è proprio perché vuoi farlo almeno per un po' di tempo vuoi dedicarti un po' di tempo a te stesso e quindi vuoi rilassarti non sentire più niente se non la mia voce e sentire pian piano il tuo corpo che si abbandona a questa sensazione molto piacevole molte persone la riscontrano con dei piccoli brevidini qua dietro al collo che proseguono per tutta la schiena come quando ci viene fatto appunto un po' di ci vengono fatti i grattini non so come li chiamate voi io li chiamo grattini ecco i grattini portano questa sensazione di relax questo questi brevidi che portano il nostro corpo a distendersi ma perché perché parte dalla nostra mente prima di tutto la nostra mente che si distende che si rilassa e che porta il nostro corpo ad abbandonarsi a relax ed è un po' quello che voglio fare con voi questa sera con me ho anche questa carta qui è praticamente la carta delle salviette struccanti che è finita io trovo fantastico questo suono trovo che veramente aiuti perché il rilassamento parte anche dal suono quindi da degli stimoli uditivi che ci permettono appunto di distenderci io trovo che fatti fatto così lentamente sia veramente super 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 rilassante quindi io spero che tu sia in una posizione comoda un po' di stesa o magari seduto con le cuffie che è una cosa molto importante tenere cuffie o auricolari perché il nostro suono il suono della voce oppure degli oggetti arriva direttamente al vostro orecchio è molto più piacevole e induce molto di più al rilassamento ovviamente se ti va puoi tenere anche gli occhi chiusi perché aiuta tantissimo a rilassarsi e a proiettarsi già verso il sonno o anche se non vuoi dormire comunque il relax con gli occhi chiusi è molto più piacevole o anche se non vuoi dormire quindi Ho un'altra cosa qua per te, l'altra volta vi è piaciuto molto il rumore di un bracciale, questo è il mio portagioie e vi voglio far sentire. Ho un po' di gioiellini che secondo me è sempre molto molto rilassante, questo qua mi piace tanto, oltre che mi piace tanto la collana in sé, anche questo qua, ok qua la vedete meglio? Mi piace tanto anche il rumore. E' da un po' che non la metto, però mi piace tanto. Poi vediamo cosa c'è. Eccone un'altra. Questa qui è molto bella perché è un po' etnica, un po' così, mi piace molto. Molto bella. Ma ce n'è un'altra che è ancora più tingle, tingle rosa. Questa qua è anche un po' molto estiva, come collana, con tutti questi pendagli in color bronzo. E questi, trovo che i pendagli, in generale i pendagli charms, siano molto molto rilassanti. Infatti, non so se anche voi ci fate caso, ma quando una persona ha questi gioiellini, che parla, quindi gesticola o gli orecchini, e appunto si muovono questi pendagli, trovo che sia di un rilassante pazzesco. Questa qui è un po' molto bella. Molto molto rilassante, ragazzi. Mi raccomando, tu sei sempre disteso, tranquillo, senza che tu ti ricordi più che cos'è l'agitazione. Ma, che tu ti ricordi solo, impresso nella tua mente. Relax. Distenditi. E se vuoi sciogli un po' i muscoli, anche che aiuta molto. Scegliere i muscoli, sentirsi un po' un tutt'uno col materasso morbido. Ecco, questo aiuta tanto a farsi sentire coccolati, protetti, al sicuro. E sono sicuramente degli aspetti che aiutano il nostro relax. Poi, vediamo qua che cosa ho d'altro che posso utilizzare. Questa è una catena, dal gusto molto più rock rispetto ai gioielli di prima. Che però fa un rumore anche lei. Molto, 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 molto rilassante, che aiuta a distenderci. Poi mi piace anche molto, personalmente, vedere i muscoli. per maneggiare i gioielli. Molto, forse perché c'è questo hand movement, può essere. Ma lo trovo molto, molto rilassante. Ecco, qualche catenella, le catenelle messe insieme così. Sono sempre molto rumorose, quindi anche al polso. Fanno un po' di rumore. Eh? Spero che tu ti stia rilassando Spero che tu stia cogliendo tutto ciò che ti può far dimenticare tutte le cose che hai in testa Spero che quest'attimo sia solo tuo e di nessun altro E che tutto quello che desideri, nonostante magari tutti gli sforzi, possa arrivare Perché è un po' quello che ci auguriamo tutti quanti, no? Spero vivamente che tu adesso sia molto più disteso E che magari tu possa fare un buon riposo Che è fondamentale sia per distendere i nostri pensieri ma anche per distendere il nostro corpo Che senza l'adeguato riposo va ancora più sotto stress E questo non lo vogliamo Vogliamo che tu adesso ti stia bene E che possa chiudere gli occhi serenamente Senza avere ansie Che non ci interessano, non ci risolvono Niente Anzi, ci peggiorano tutto quanto Quindi via Via, via, via Scrollati pure Scrolla, 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 scrolla Scrolla via tutto E tieni però le sensazioni buone Le sensazioni positive Che sono quelle che in questo video Ha voluto trasmetterti E che continueranno a taleggiare intorno a te Ti accompagneranno Un po' come una coperta Ti coprono Ti tengono al caldo Ti fanno sentire protetto E ti accompagnano tutta, tutta la notte Nel tuo sonno Quindi Rilassati Chiudi gli occhi Con queste mie ultime parole Fatti accompagnare In quello che sarà Un sonno Molto profondo Molto rilassante Molto riposante Fai una buonanotte E ricordati Di tenere stretta Questa sensazione Dolce Calma Che rincuora Buonanotte